Quello che si è appena concluso negli Stati Uniti è stato un viaggio molto interessante e anche impegnativo, un viaggio che è partito dal futuro, dal futuro della California, dal futuro della Silicon Valley, dal futuro di Stanford, della Singularity University, degli start-up per italiani, dei giovani scienziati, di Twitter, di Yahoo, di Google, dove abbiamo incontrato gli amministratori delegati, fondatori. È un viaggio dunque che ha preso le mosse dalla Silicon Valley, da San Francisco per dire che l'Italia può pensare al futuro, l'Italia non deve limitarsi a rappresentarsi come una grande nazione del passato e molti di questi ragazzi, molte di queste donne e uomini che dedicano la loro vita all'innovazione sono in grado di spiegarcelo e di indicarci la via. Poi il presente, il presente di New York, il presente del Palazzo di Vetro, il luogo dell'Assemblea delle Nazioni Unite, ma anche il luogo nel quale tante speranze sono riposte da parte dei diseredati e dei poveri e dei senza diritti di tutto il mondo. Il mio intervento alle Nazioni Unite portando la voce dell'Italia ho voluto rappresentare sicuramente la dignità e l'orgoglio di 60 milioni di italiani che sanno che i valori di civiltà, libertà, bellezza, uguaglianza contro una pena di morte e per i diritti sono valori storici del nostro Paese, ma ho voluto anche portare la voce degli 80 mila uomini e donne salvate dalla Marina e dalle forze dell'ordine italiane nella operazione marinosa. Sono 80 mila medici, 80 mila musicisti, 80 mila artisti, 80 mila operai, 80 mila buocchi, 80 mila impiegati che sono stati strappati dal Mediterraneo. Noi vogliamo che il Mediterraneo sia il cuore dell'Europa e non il cimitero del mondo. Noi vogliamo che il Mediterraneo torni a essere, diceva un grande sindaco di Firenze, Giorgio Lapira, il prolungamento del lago di Tiberia, del luogo nel quale persone di storie diverse, di esperienze diverse, aggiungo oggi di religioni diverse, possono dialogare, possono condividere e perché non costruire quella pace di Abramo che manca in Libia sicuramente, ma soprattutto manca nella terra, che ha dato origine e che per tanti credenti è la terra santa. E infine il passato, un passato che però ha saputo cambiare, il passato di Detroit, della sede della Fiat Chrysler, una grande fabbrica, pensate il secondo edificio più grande in America dopo il Pentagono, un edificio nel quale oggi si parla anche italiano, grazie alla intuizione di Sergio Marchionne e dei suoi collaboratori. È la storia di due aziende che stavano fallendo, Fiat Chrysler, risollevate e a cui è stato assicurato un futuro. Il futuro di Grugliasco, il futuro di Melfi, il futuro di tanti stabilimenti in Italia, anche e soprattutto il futuro di chi pensa che non c'è soltanto il ricordo di ciò che abbiamo fatto, c'è la voglia di costruire il domani. Ecco, in questa missione negli Stati Uniti, impreziosita dagli incontri con il Presidente Obama, con il Presidente Clinton, con Hillary Clinton, con tanti presidenti dal Cile al Turchia per arrivare al Segretario Generale delle Nazioni Unite, abbiamo soprattutto ricordato una grande frase di un grande, grande, personaggio delle Nazioni Unite, Doug Amberskjord. Lui diceva al passato grazie, al futuro sì. Se ci pensate è un po' l'emblema dell'Italia, al passato grazie, al futuro sì. E forse anche di quelle tante donne e uomini che continuano a credere che l'Italia non sia un paese finito, ma sia un paese infinito, pieno di risorse, pieno di bellezza. Torniamo da questi cinque giorni convinti che la pagina migliore l'Italia la deve ancora scrivere e tutti insieme la scriveremo. Grazie a tutti.